benissimo ciao a tutti e bentrovati per questa presentazione del nuovo ciclo di incontri dedicati all'iniziazione che con Aretusa Academy partiranno tra breve e sicuramente uno degli argomenti più profondi è un universo ricchissimo patrimonio davvero impossibile da circoscrivere è quello del tema iniziatico perché ci troviamo di fronte a un archetipo a un universale ci troviamo di fronte a un elemento della cultura del passato che avanza di pari passo con il sorgere delle civiltà quindi non esiste comunità al mondo nel corso della storia antica che non abbia concepito e strutturato dei diritti iniziatici partire da questo assunto significa ricordarsi brevemente quali possono essere diciamo i capisaldi del concetto stesso di iniziazione e al di là degli studi antropologici sono stati un po i primi e più puntuali approfonditi per metterci a contatto con la dimensione universale dell'iniziazione e degli studi storici e simbolici possiamo dire che l'aspetto universale dell'iniziazione riguarda quello della formazione dell'individuo della strutturazione del modo in cui un soggetto si rapporta a una comunità in cui l'io si relaziona al noi o al gruppo ecco questo che ovviamente rappresenta ancora oggi un grandissimo dilemma non del tutto risolto e non del tutto risolvibile quello dei rapporti tra l'io e il gruppo ha potuto a seconda delle epoche a seconda della geografia e quindi a seconda dei luoghi ha potuto trovare sempre delle strutturazioni a mano a mano che l'individuo si è formato si è formata e ampliata anche la geografia interiore di quella psiche che non era più solo preda del mondo non era più solo proiettata nell'esteriorità ma comincia a occuparsi di sé e quindi comincia a mappare i territori dell'interiorità lì l'iniziazione assume quei connotati che sono più vicini e riconoscibili a ciò che noi stessi chiamiamo iniziazione ecco questo è l'aspetto che ci porta mano a mano nel corso del tempo vicino a noi noi intendo in occidente nel nostro spazio nel nostro tempo e ho deciso proprio di dedicare le mie attenzioni alla iniziazione nell'occidente e nella contemporaneità perciò daremo giusto qualche indicazione per sommi capi e molto generale degli aspetti universali e archetipali dell'iniziazione bene questo servirà un po per puntellare e fissare una base di conoscenze a partire dalle quali costruire limitando al massimo i fraintendimenti il nostro sguardo la nostra opera di analisi diciamo così o di perlustrazione di esplorazione dell'iniziazione contemporanea nell'occidente la singola lezione si concentrerà su quel grande revival dell'esoterismo e di conseguenza dell'iniziazione e del suo linguaggio simbolico a partire dalla fine dell'età moderna e mano a mano fino alla sua esplosione ottocentesca dove abbiamo avuto un contributo decisivo nel far circolare dei saperi che prima erano appunto erano limitati alle strette cerchi iniziatiche farli circolare al grande pubblico al cosiddetto grande pubblico ovviamente questo ha permesso un allargamento delle frontiere dell'iniziazione dalle strettissime elite che potevano trovare diremmo qualcosa di questo i loro allacci addirittura nelle corporazioni dei mestieri quindi siamo in epoca medievale tardo medievale le corporazioni dei mestieri con l'insieme di conoscenze di abilità e di sapienze custodite dai maestri trasmesse ai loro allievi da lì in poi abbiamo una graduale esondazione dei contenuti di questi concetti e di queste abilità di queste anche pratiche che vengono simbolizzate e che cominciano a essere rese più vicine alla dimensione esoterica per esempio se pensiamo al contributo che la società teosofica da un lato e poco dopo con rudolf steiner la società antroposofica dall'altro hanno dato al dilagare del linguaggio esoterico cominciamo anche a capire come abbia fatto l'iniziazione a uscire dalle strette cerchie iniziatiche e cominciare a essere maneggiata da un pubblico più ampio interessato a percorsi interiori cioè che si affaccia a una dimensione della spiritualità che non è più necessariamente estroflessa o esclusivamente estroflessa ma comincia soprattutto a occuparsi del viaggio verso l'interno del conosci te stesso ora nel nostro singolo incontro a partire dalle corporazioni vedremo qualcosa dell'esplosione di quella iniziazione che possiamo considerare ancora oggi nella contemporaneità essere la summa dell'iniziazione occidentale e mi riferisco alle massonerie naturalmente anche alla loro interazione e forse dovrei dire all'integrazione del simbolismo rosa croce all'interno della massoneria stessa parallelamente vorrei citare un importantissimo ordine iniziatico i cui riflessi la cui importanza e la cui portata sia avuta dopo paradossalmente dopo il lavoro compiuto da quest'ordine mi riferisco all'ordine ermetico dell'alba dorata che tutti più o meno conosciamo come golden dawn è un tipo di iniziazione diversa e vorrei concentrarmi sulle differenze nel corso del nostro primo incontro singolo vorrei concentrarmi sulle differenze con iniziazione massonica e mostrare come un attento scrupoloso e approfondito legame con l'operatività magica anche una sua rivisitazione costituisca la base sincretica di quel lavoro che troverà un pieno compimento con Alistair Crowley non a caso la golden dawn è il nido diciamo così in cui cresce in cui si forma il giovane Alistair Crowley e da Alistair Crowley abbiamo il ponte per la contemporaneità infatti Crowley è il classico autore che costituisce sotto ogni punto di vista l'aspetto rivoluzionario e imprescindibile dello sviluppo della magia e ovviamente dell'iniziazione essendo egli stesso un fondatore di ordini iniziatici o un riformatore di ordini iniziatici possiamo dire che nessuno che si interessi a questo campo oggi come oggi può sfuggire al confronto con Alistair Crowley quindi quando qualche autore obbliga chi viene dopo di lui a confrontarsi con la propria dottrina è chiaro siamo in presenza di un pilastro centrale all'interno del nostro incontro singolo parleremo anche di due aspetti che viaggiano parallelamente e che costituiscono poi due delle colonne del tempio dell'iniziazione uno è sicuramente l'avvento della psicoanalisi il linguaggio psicoanalitico giunge con Freud, Jung e dopo di loro gli altri giunge in un momento in cui vi è bisogno di mettere a fuoco, di mettere a terra delle parti, delle categorie della psiche umana che si sono pienamente strutturate e in cui l'uomo può finalmente muoversi avendo anche quello sguardo dal di sopra che consente di definire, di dare un nome a quelle aree della psiche questo tema sarà inevitabilmente destinato a intrecciarsi con il linguaggio esoterico perché il simbolo è il linguaggio che accomuna questi due grandi ambiti e con quello iniziatico le iniziazioni trarranno giovamento da una consapevolezza o uno studio attento della psicoanalisi per riuscire a far funzionare meglio, per riuscire a penetrare meglio nella psiche del soggetto e far funzionare meglio i codici e i linguaggi strutturati per far arrivare determinati tipi di messaggio allora quello che possiamo definire shock psichico all'interno del contesto iniziatico cambia nel corso del tempo e pur rimanendo intatto come concetto pratico fin dai tempi delle più lontane iniziazioni tribali assume una veste sempre più simbolica e quindi efficace nel territorio dell'interiorità man mano che andiamo avanti ecco, questo in sintesi estrema è il contenuto che svilupperemo nel corso del nostro incontro singolo dedicato all'iniziazione nella contemporaneità questo però aprirà le porte a un approfondimento quindi a un percorso in quattro ulteriori tappe che ci permetterà di avere uno sguardo più approfondito su ciascuno degli aspetti oltre ad allargare la frontiera su ciascuno degli aspetti che vi ho citato fino ad ora quindi in un percorso pensato in quattro tappe dedicato all'iniziazione in occidente e nella contemporaneità non possiamo che partire da un approfondimento del senso che sta alla base dell'iniziazione massonica e in particolar modo, secondo me questo è un tema importantissimo come la massoneria sia riuscita a inglobare e sintetizzare in una maniera molto fresca, molto innovativa la portata simbolica un po' devo dire ridondante e pesante dell'epoca medievale e rinascimentale si trattava, transitando in pieno illuminismo, si trattava di aggiornare, comprimere, sintetizzare e velocizzare i processi perché l'iniziazione segue lo sviluppo della coscienza in quel luogo adattandosi, rimanendo diciamo al passo con i tempi o potrei addirittura dire anticipando i tempi cioè facendo da traino al progresso non semplicemente rimanendo al passo col progresso e questo è un tema molto sentito nei contesti iniziatici quello cioè di essere in grado di fare da traino per alcuni degli sviluppi decisivi dell'essere umano quindi i simbolismi alchemici i simbolismi cabalistici riportati in auge nel tardo medioevo e con la cabala ermetica nel rinascimento i simbolismi della rosa croce come vengono organizzati in seguito al puntuale lavoro di simbolizzazione in seno ad alcune corporazioni dei mestieri come arrivano quindi nella massoneria contemporanea a costituire ancora oggi un modello di questo parleremo nel nostro primo incontro e chiaramente vi è molto di sociologico, filosofico e psicologico anche da questo punto di vista nel secondo incontro vorrei concentrarmi sulla psicoanalisi e sulla relazione che la psicoanalisi intrattiene con il mondo magico se pensate al libro rosso di Jung avete un ottimo esempio di consapevolezza del ruolo, del simbolo e dell'attivazione che il simbolo comporta all'interno della psiche umana proprio in relazione al pensiero magico possiamo dire che lo sviluppo della psicoanalisi consenta un dialogo aggiornato con il mondo della magia certamente possiamo dire che consenta alla magia nel suo rinnovarsi anche una sorta di razionalizzazione certamente se la magia sopravvive e sopravvive adattandosi ai tempi per questo è diversa dalle religioni perché continua ad adattarsi ad aggiornarsi beh, uno dei momenti storici come quelli che viviamo dall'illuminismo in poi obbliga la magia a un certo margine di razionalizzazione e la psicoanalisi fornisce gli strumenti della razionalizzazione oggi il dibattito nella comunità che si occupa di rito e di magia è molto attivo da questo punto di vista proprio per determinare quali possano essere i limiti e anche i rischi di una eccessiva psicoanalizzazione della magia dobbiamo evitare che la magia venga assorbita dalla psicologia che si riduca alla psicoanalisi ma la psicoanalisi ci serve per spiegare e a volte addirittura giustificare alcuni aspetti fondamentali del rito e della magia quindi non è un rapporto semplice Crowley e Jung diventano un po' i testimoni viventi le ipostasi di questo dialogo tra la magia e la psicoanalisi nel terzo incontro, a proposito di Crowley non possiamo non parlare di quella iniziazione al nuovo eone di cui Crowley è portatore ma che è una prefigurazione del nostro tempo accettata largamente anche da chi non è strettamente crowliano non è telemita o non segue per forza un'iniziazione telemica ma il ruolo di Crowley come apritore diciamo così della nuova era che egli chiama eone di Horus e che altri potrebbero chiamare in un altro modo è molto diffusa e largamente accettata questo sarà argomento del terzo incontro e cioè che cosa significa iniziazione al nuovo eone quali sono le implicazioni che Crowley considera quindi uno sguardo all'ordo tempio orientis e all'astrum argentum non potrà che essere, anche se molto superficialmente però non potrà che essere dato in questo incontro perché l'iniziazione al nuovo eone passa proprio da queste organizzazioni la prima, l'ordo tempio orientis che ha la peculiarità di essere un ordine preesistente a Telema ed è il primo ordine dell'antichità a transitare nel nuovo eone accettando, facendo proprio Telema e là invece quella confraternita della luce che esiste al di sopra, al di fuori dello spazio e del tempo e che in fondo regola i destini dell'umanità promuovendo i messaggi di volta in volta in linea con la legge del nuovo tempo, del nuovo eone ci sono concetti interessantissimi che toccheremo e che ci permetteranno di chiudere in bellezza diciamo così con un quarto incontro dedicato non solo alla contemporaneità ma un po' anche al futuro vale a dire l'avvento della tecnologia il tanto discusso e temuto transumanesimo il ruolo della scienza oggi il dialogo che la scienza potrà avere in futuro con la magia che questa è una prefigurazione tipica di Crowley se pensate che il motto dell'A è lo scopo della religione il metodo della scienza quindi a un certo punto scienza e spirito o magia devono tornare ad avere un dialogo franco, aperto e noi mostreremo io cercherò quantomeno di mostrare quanto vi sia di fertile, di fecondo all'interno di questa possibilità di dialogo che in realtà è un dialogo che da tempo in memore non si è mai del tutto interrotto adesso però nell'era in cui viviamo che è l'era della religione scientifica uso apposta questa provocatoria espressione abbiamo sicuramente bisogno di scoprire quali siano i nessi possiamo dire che la scienza sia una magia che ce l'ha fatta e io partirò da quest'altra espressione un po' forte per dare uno sguardo sul futuro che non sia per forza quello spaventato lamentoso che sentiamo prevalere oggi quando si parla di futuro tecnologia, future tecnologie insomma possiamo avere anche un po' fiducia nel fatto che Leone viaggi con una intelligenza che guida il nostro tempo verso ciò che è in fondo il nostro destino che prevede o meno un superamento dell'uomo così come lo conosciamo come aveva preconizzato Friedrich Nietzsche questo lo vedremo ma che l'iniziazione si sia sempre occupata soprattutto nella contemporaneità di costruire un uomo nuovo anche questo è un dato di fatto innegabile e di questo cercheremo di occuparci nel finale del nostro ultimo incontro con questo percorso in quattro tappe spero di contribuire allacciandomi a un mio vecchio seminario sull'iniziazione tenuto alcuni anni fa di contribuire ad un aggiornamento ad un approfondimento a una rinfrescata diciamo così di contenuti che vi aiutino a riflettere a mettere un po' in crisi alcune certezze e a riflettere su alcuni aspetti non così scontati bene, vi ringrazio di tutto e mi auguro di trovarvi ovviamente sia al singolo incontro che al resto del percorso un abbraccio a tutti grazie ciao